Per amici TecnoZoom, Apple iPod Touch Design. In parte frontale abbiamo il grande display multi-touch, tasto sotto il tasto Home, per tornare alla Home dove si trovano tutte le applicazioni. Nella parte superiore abbiamo il tasto di accensione e spendimento del lettore MP3. Nella parte inferiore abbiamo l'entrata per le cuffie e l'entrata per il cavo trasmissione dati, per poterci connettere con il PC o per andare su iTunes dove scaricare e eventualmente comprare musica, video e altro. Il lettore MP3 è caratterizzato da un colore nero nella parte frontale, in due tonalità, e fatto in buoni materiali, la parte dietro naturalmente è in metallo, quindi compatto e un design molto ricercato. Apple iPod Touch Design.